Ersato Beh, un messaggio a dir poco inquietante Questo messaggio fra l'altro si trova appunto in una capanna abbandonata E ci ha invitato sostanzialmente a tornare alle due di notte La capanna abbandonata si trova esattamente qui A nord-est della mappa In un luogo abbastanza distante dall'inizio del gioco E che dire, alle due di notte ci diamo appuntamento in questa capanna Perché non ci saremo soltanto noi Ma ci saranno dei nostri simpatici amici Probabilmente direi da un altro spazio, da un'altra galassia Infatti questo raggio di luce verde vi fa capire che sopra di noi Aleggia una stirpe aliena di Bastardelli Allora, cosa possiamo dire di questo posto? Questo posto diciamo sembra proprio il luogo di culto di una setta Perché il sermone si trova accanto a una sorta di trono Diciamo dove si siede quello scheletro Che deve essere il capo All'interno della capanna ci sono ben 11 scheletri Comunque vi diverterete ben voi, immagino A guardare in giro ci sono anche diverse cose Fra cui un collezionabile, una figurina da raccogliere E cosa possiamo dire? Potrebbe trattarsi di un suicidio di massa Un suicidio di massa perché negli Stati Uniti E diciamo più in generale nelle Americhe È frequente questa forma di culto Di suicidarsi per raggiungere un altro mondo Per raggiungere il paradiso Ed è strano vedere 11 scheletri all'interno di una capanna abbandonata Non credete? Oppure potrebbero essere stati tutti, tra virgolette, rapiti Da quest'UFO Quest'UFO, fra l'altro, che assomiglia tantissimo Agli UFO di GTA V Fra l'altro, all'interno del sermone Si cita il Monte Shan Che potrebbe essere un parallelismo al Monte Ciliad Inoltre, cosa possiamo dire? Il Monte... Si cita il 2000 Gli anni 2000 Gli anni 2000 sono gli anni in cui sono ambientati Appunto le vicissitudini di GTA V Quindi sembra assolutamente un riferimento Proprio all'easter egg che era già presente su GTA V Che io ho trattato in tanti miei video E vi lascio il link a questi video per approfondire Comunque si tratta sicuramente di un qualcosa di dopatissimo Adesso, come vedete, con l'iniziare Uscendo dalla capanna se ne va via l'UFO Ma anche proprio al sorgere del sole se ne andrà via Lo troverete appunto alle 2 di notte Dunque, sono tante possibili le spiegazioni di questo easter egg Potrete voi magari dirigervi sul Monte Shan A investigare, comunque stando a quanto letto In rete, non c'è assolutamente nulla Se non delle pietre Su Monte Shan non viene nessuno a trovarvi Però potrebbe anche essere che magari bisogna tornarci Quando si completa al 100% il gioco Chi lo sa Potrebbero essere diverse le possibilità E siete voi i primi a dover investigare Perché purtroppo la mia stratoga non è stata sufficiente A consentirmi di prendere il gioco In quanto non ho veramente il tempo di giocarci E se io posso fare questi video è grazie a voi Che mi aiutate Che mi mandate le clip Infatti per questo video vorrei in particolare ringraziare Ludovico Cerchione Che mi ha mandato appunto la clip Davvero molto molto gentile E continuate ovviamente a segnalarmi tutto quello che voi volete Tutto quello che voi sapete Così riusciamo insieme a portare avanti Dei video molto molto interessanti Comunque abbiamo detto appunto Di questo possibile riferimento a GTA V Che io penso sia assolutamente La cosa più probabile Assolutamente sì Perché il 2000 Monte Shan che è simile a Monte Ciliad Poi gli UFO che hanno sempre questo fascio verde E poi se ci pensate Sul Monte Ciliad C'è proprio Appunto in cima al monte Vengono a trovarci sempre mi pare attorno alle 2 Forse era mezzanotte su GTA V Comunque riguardatevi assolutamente i vecchi video Che dire io vi ringrazio Me l'avete già segnalato nel video precedente Ma questa poi è una cosa che è uscita subito Subito Appena è uscito il gioco Tutti hanno subito trovato questo UFO Sono tutti andati a correre Alla ricerca di questi easter eggs Perché la Rockstar Games È veramente magica in questo Mette sempre dei grandissimi easter eggs All'interno dei suoi giochi Che dire Io spero che questo video vi sia piaciuto In tal caso lasciate un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto In descrizione trovate i link Per seguirmi su Facebook Instagram Twitter E tutto quello che volete E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 .